Dalla tradizione all'innovazione, una esperienza di imprenditorialità femminile nel filone agroalimentare? Assolutamente sì, il nostro Molise è una terra di eccellenze, quindi annovera tra le sue produzioni dei prodotti di nicchia, dell'eccellenza, di grande valore e di grande qualità. Una cosa molto importante però è non perdere mai di vista questa tradizione, ma se vogliamo rispondere alle richieste del mercato, che è un mercato sempre più attento, dove i consumatori chiedono sempre di più di avere un prodotto sostenibile, non si può non investire in ricerche di innovazione. Qual è la nuova frontiera per il Molise riuscire a sfruttare le peculiarità del territorio, però salvaguardandolo? Assolutamente sì, il territorio deve essere salvaguardato perché sono queste eccellenze che devono essere scoperte, devono essere valorizzate, ma soprattutto con un occhio sempre di più alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione, appunto per rispondere al consumatore sempre più attento che ci chiede di conoscere completamente un prodotto, di conoscerne la filiera, di conoscere dalla raccolta al prodotto sulla tavola.